Partiamo da una sessione che conosciamo tutti, quindi fiamme negli occhi, fantastico. Carlo, raccontaci un po' quali sono i plugin che usi più spesso nel tuo flusso di mixaggio. Questa è proprio la sessione di mixaggio, giusto? Sì, sì, sì. Vai, raccontaci tu. Allora, diciamo che sulle voci di solito utilizziamo un Teletronix LL2A, LL2A, che è il compressore perfetto per le voci, anche di forse Francesca, ma in generale per tutte le voci che facciamo. O questo, o la versione Silver, che è un po' diverso, ma comunque è questa cosa qui. Utilizziamo un 1073 come pre-EQ, in questo caso sì, è anche EQ. Subito dopo un altro Teletronix, un Distress. Questo è ovviamente uno dei preferiti compressori, a volte usati in mix e a volte belli estremi. Poi vediamo altre cose. Di default comunque la catena è quella del compressore EQ, a volte anche EQ e compressore, che sono sempre 1073 o 1081 e le LA2A e versione Silver, che è quella grigia. Allora, visto che è interessante che praticamente usi tre LA2, perché usi due LA2 e un Distressor in modalità LA2. Sì, esatto. Quindi praticamente tre LA2 in serie. Vediamo, non sempre. Allora c'è questo e questo. Queste modalità LA2 anche qui. Sì, 8, super estremo e invece questo leggermente più tranquillo. Sulla voce di Francesca abbiamo appunto un 1073, un LA2A, un Distressor in mix. Quando ti sto vicino sento, pochissimo con LA2A, che a volte perdo il baricentro, e ondeggio come fa una foglia, non nemmeno tre massimo. Anzi come la California, invece con un Distressor, quando ti sto vicino sento, però comunque mixato. Che a volte perdo il baricentro, e ondeggio come fa una foglia, sentiamo con e senza. Quando ti sto vicino sento, che a volte perdo il baricentro, quando ti sto vicino sento, che a volte perdo il baricentro. Ok, e sulla ritmica invece come va a implementare? Allora, sulla ritmica è composta da varie tracce, che sono un drum rack con svariati sample, per tutta la parte principale, e poi in aggiunta dei clap aggiuntivi veri, non veri, la parte percussiva, anche questa tutta vera, perché è tutta registrata. Sono tamburine, shaker e altre piccole percussioni. Diciamo che ogni traccia ha il suo trattamento leggero, che potrebbe essere compressore ed EQ, per poi finire in un bass, prima delle percussioni, e poi generale di tutta la parte ritmica, dove c'è anche qui un distressor. Diciamo che la parte percussiva ha tutte queste, ha vari sample e percussioni vere. Usiamo tanto anche i plug-in di live, perché usando live come do principale, soprattutto la parte effettistica, sono molto belli, ma anche la parte di EQ ogni tanto viene utilizzata con i plug-in live. Poi ci sono dei clap aggiuntivi, clap e snap, e invece all'interno del drum rack, con tutti i vari sample, con un thermionic per pompare e scaldare un po' più il suono, c'è questa parte ritmica. Tutto insieme, adesso forse, mi sa che questa sta lavorando troppo, non era proprio così. Tutta insieme la parte ritmica, è così. Qua in verità non sta schiacciando tanto, tantissimo, anzi, pochissimo direi. Sì, ci sono le due parti, quella della strofa, che è proprio un classico suono, offener, volito. C'è questo plug-in della Vertigo, che è bellissimo per le distorsioni armoniche. Un compressore e un altro plug-in particolare, che sul basso fa un po' strano, è questo Precision, che è fondamentalmente un reverbero. Che però, in questo brano, nella sua semplicità, c'era spazio anche per il reverbero sul basso. Per quanto riguarda invece il basso dell'inciso, qui abbiamo utilizzato sempre quell'offener, però, che passa all'interno di un simulatore di chitarra, perché sotto questo basso, che probabilmente sarà un po' tagliato, con sotto, c'è la parte sub, quindi c'è questo fraseggio di basso, che sembra la chitarra, con sotto, la parte sub. Sì, ci piace avere questo basso molto, un po' distorto, e con molta importanza all'interno del brano. Questi sono i plug che abbiamo usato, grazie. Ciao a tutti. Ciao.